Tristezza e malinconia, incapacità di concentrazione e incapacità di affrontare i problemi, spesso sono questi i connotati della depressione, per non restare nella confusione. Per lei, dottor Fagioli, cos'è esattamente la depressione e quand'è che si può parlare di depressione? Non lo so. Tanto che questa dizione riferita alla depressione, per cui è mancanza di concentrazione eccetera, appena detta, dimostra che la definizione di depressione può essere varia. Nei testi classici. Depressione, si parla di depressione come abbassamento del tono dell'umore e ralentamento psicomotorico. Già il discorso dell'incapacità, l'impossibilità di fare eccetera, sono già forme diverse, secondarie. Fino al discorso della piuttosto antica definizione di melanconia, dovuta a un disquilibrio nella circolazione degli umori del corpo, nel quale disquilibrio andava a prevalere quella che chiamavano la trabile, la bile nera e allora si scoppiava la malinconia. Da questa definizione che comprendeva, definizione e, diciamo, eziopatogenesi, psicopatologie, del perché di come siamo arrivati a questa situazione moderna. Il discorso interessante è questo. Che differenza c'è tra tristezza e melancolia? O depressione? Melanconia è rimasto come termine per indicare qualcosa di molto più forte, molto più pesante, un qualche cosa di molto patologico fino a un rallentamento che arriva a quello che ci si chiama lo stupor depressivo. E quindi, stando in quest'ambito, con questa definizione, noi siamo in ambito prettamente medico-clinico o psichiatrico di sindrome e situazioni assolutamente patologiche. Però invece c'è da considerare che la depressione ha vari aspetti. Tanto che, appunto, si può adoperare la parola tristezza e naturalmente credo che nessuno sappia quando si deve adoperare la parola tristezza e quando si deve adoperare la parola depressione. Per poi, per il resto, anche perché viviamo in tempi moderni in cui questo problema è attualissimo, occupa l'interesse di tutti in modo quotidiano, c'è un'ampia gamma di depressione per cui possiamo cominciare a dire che ciascuno si fa la diagnosi di depressione per conto proprio. Basta un abbassamento del tono e l'umore, ma a questo punto possiamo dire che basta un insoddisfazione, per cui un qualche cosa che non riesce bene, quella che potrebbe essere addirittura una pigrizia nell'alzarsi la mattina che immediatamente scatta l'auto definizione di depressione. Allora, forse, marciando un po' tra parentesi il discorso psichiatrico specifico, medico psichiatrico, è bene fare un discorso su questa condizione che non arriva ai limiti nemmeno a un psichiatra. Nessuno pensa di avere una crisi mentale tale da rivolgersi ad un psichiatra. E quindi consideriamo che questa situazione, che tutti chiamano appunto di depressione, per difficoltà normali di vita, possiamo dire, o variazioni del tono e dell'umore, che da certi punti di vista possono essere considerati anche normali e fisiologici, per fare la differenza e il contrapposto con, forse prima con la tristezza, ma in secondo luogo anche con l'opposto della depressione e tristezza che, vogliamo dire che cos'è? La contentezza, la gioia, l'iperattività o addirittura quella grande parolona che sarebbe la felicità rispetto alla depressione. E appunto io direi che la cosa da criticare, da affrontare non sia tanto questa depressione di cui stiamo parlando, quanto quelle altre parole. Se non osserviamo bene, al di là di quello che chiamano depressione normale, depressione quotidiana, depressione di tutti, quasi si potrebbe dire, questa cosiddetta felicità potrebbe essere soltanto lo stato ancora più patologico che è quello dell'euforia. Senza considerare l'euforia consideriamo addirittura l'esaltazione, perché in effetti tante volte accade che se uno non regge, non sopporta, non dinamizza e non elabora tutta questa cosa come rapporto di vita con il mondo, potrebbe scivolare in altre cose che è quella della non depressione che però diventa una affettività schizoidia, menefreghismo per termini non psichiatrici, il che è una condizione molto più grave che non la cosiddetta depressione, perché potrebbe portare a una situazione in cui uno addirittura si sente bene, tutto fila, diventa un comportamento normale, regolare eccetera, ma completamente vuoto è fatto, privo di qualsiasi rapporto vero, basato sulla timia, affettività, affetti, dinamizzazione, non voglio doperare la parola passionale, però in effetti anche se forse socialmente come comportamento può essere auspicabile, perché è una persona che rispetta sempre gli orari di ufficio e i segnali stradali, però di fatto umanamente è una persona pericolosissima, molto meglio il cosiddetto depresso che vive le situazioni. Ecco, quindi diciamo la felicità potrebbe essere un inganno? Io credo che la felicità sia un totale inganno, io non riesco a capire appunto. depressione, la non depressione che cos'è? Allora, affettività, benefreghismo, beato, euforia, esaltazione, fino ad arrivare a quegli stati ipomaniacali e così via dicendo. la condizione normale, che cos'è? Una persona che canta la mattina, da mattina a sera, anche facendo tutte le cose normali, anche aspettando l'autobus per mezz'ora che non arriva mai, continua a cantare, lui è felice e d'accordo. Forse c'è da pensare che questo non sia felice, sia un cretino che vive questa situazione, un drogato perlomeno, che vive questa situazione, per cui una situazione di felicità non si sa bene che cosa sia. Il termine felicità, beh, è una di quelle parole che si adoperano così per indicare qualche cosa, o che è estremamente soggettivo e personale, quindi non può essere trasferito ad altre persone, per cui una persona felice però in un certo modo, per una certa situazione e per certe circostanze un'altra persona, per tutt'altra intende per felicità qualche cosa che non corrisponde a quello che intende l'altra persona, come dire, sento caldo, sento freddo, sto bene, oppure un no, lì c'è un certo accordo comune per cui 22 gradi servono per stare bene e possiamo essere d'accordo tutti. Quando si tratta di felicità è un uso, noi abbiamo nei riguardi di questa faccenda della depressione un difetto di pensiero, un problema, anche quando c'è quella definizione che la depressione è l'abbassamento del tono dell'umore. Si parla come se si parlasse di un abbassamento del livello dell'acqua o del vino, come se uno sapesse benissimo qual è il tono dell'umore normale. Per cui dice, essendo abbassato rispetto a che cosa, uno dice, allora è depresso perché è abbassato il tono dell'umore. Ma come è abbassato il tono dell'umore? Ma rispetto a che cosa? Quale deve essere? Nessuno ha mai saputo quale deve essere la condizione normale del tono dell'umore. E così, per la felicità, stati di benessere, stati di… oppure sono situazioni di soddisfazione, appunto, la felicità si può tenere al mare, prendendo il sole, godendosi il calore del corpo, una bella bronzatura, un bagno caldo, una doccia fredda d'estate. Tutte queste sono situazioni di felicità. No, forse la parola felicità non è probabilmente quella. Forse, appunto, prima di parlare di felicità l'ha detto di uno stato di calma, proprio non di abbassamento del tono dell'umore, ma di un tono dell'umore, come dire, calmo, tranquillo. Momenti per i quali uno è riuscito a fare qualcosa, ha realizzato qualcosa per cui si… si lega a quello che si può chiamare anche uno stato di soddisfazione. Anche se la cosa è molto pericolosa, perché uno stato di soddisfazione si può ottenere con una buona mangiata, con una buona becuta, con una buona dormita, in maniera ancora più dura, si può ottenere in una persona non tanto buona, perché è riuscito a vendicarsi di qualcun'altro. E la felicità è questa? Non credo proprio. E allora non lo so se corrisponde a quel massimo di realizzazione, di un rapporto d'amore, di una riuscita, di riuscire a fare una cosa bella e così via dicendo. La grande ricerca tra soddisfazione e realizzazione. E chissà qual è lo studio fisiologico per il quale dopo la realizzazione non c'è probabilmente la felicità. Deve essere uno stato d'animo diverso, di calma, di autostima, di stare bene in un certo qual senso che è difficilmente descrivibile. Difficilmente descrivibile perché uno sta bene anche se non ha bevuto per un giorno intero quella sera, beve, poi sta bene, si calma. E quindi questo stato di, non solo di felicità, ma addirittura di star bene è difficilmente definibile. Ecco, potremmo, diciamo così, essere tutti d'accordo sul fatto che se non si tocca l'integrità fisica e psichica dell'altro, lì saremmo nella malattia, quando si tocca l'integrità fisica e psichica dell'altro, no? Se non si arriva a quel limite, si resta in una situazione di, appunto, di variazioni del tono dell'umore in cui mi sembra di capire che lei sta dicendo che star male, tra virgolette, equivalrebbe a star bene, cioè nel senso che chi sta male, chi ha un qualcosa, un'insoddisfazione, si pone nell'ottica di cercare qualcosa che lo faccia stare meglio rispetto alla situazione iniziale. È questo? Sì, 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 in paradosso sì. Anche se io distinguerei però il fisico dal psichico. Nel fisico raggiunge un livello ottimale di star bene giusto. Questo corrisponde. Corrisponde abbastanza definibile uno star bene. E invece da un punto di vista psichico questa, appunto, definizione di star bene diventa difficile, diventa molto difficile. Finché, appunto, lo star bene, stiamo dicendo, va studiato perché quello un apparente star bene è una situazione, non voglio dire proprio forse qualche volta di malattia, ma di anomalia, eccetera. Adesso non vorrei, appunto, confondere una situazione di rapporto con una norma, con una impostazione psichiatrica, ma tante volte, appunto, si vede benissimo che le persone, uno, non sono depresse, ma stanno male perché sono schizoidi o addirittura hanno affettive o personalità psicopatiche o cose di questo genere, cioè una situazione molto più grave. In secondo luogo poi si può osservare che tante persone vanno a finire, uno, nell'anaffettività, nell'indifferenza più totale, e questo sì, effettivamente è un fenomeno normale, non è un fenomeno psichiatrico. Perché non sopportano la depressione? Non sopportare la depressione porta a una situazione di non depressione che però è una malattia maggiore, più grave della depressione stessa. E questo è l'appunto che io a questo punto credo che vada ricercato anche per quello che sta succedendo come fenomeno sociale, è proprio questo, non sopportare la depressione. Quindi qui fatto salvo il fatto che uno deve distinguere, lo psichiatra deve distinguere quando si tratta di malattia, allora bisogna intervenire, curare e togliere la malattia. Quando si tratta di altra depressione bisogna stare attenti perché il discorso è un momento, altrimenti potrebbe accadere, al di là di questi fenomeni psichici, più o meno inconsci, più o meno interni, per cui uno diventa anaffettivo o addirittura crolla nella dissociazione rispetto alla depressione, si può assistere a questo fenomeno, delle droghe e psicofarmaci continui comprate ormai al supermercato, cioè basta uno stato di malumore che le persone non sopportano, una contrarietà, un malessere qualsiasi, una cosa e corrono immediatamente a prendere la pillola della felicità, si prendono l'estasi, che mi pare assolutamente ovvio che è una situazione che non va, cioè la storia che non va non è la cosiddetta, chiamiamola depressione, triste, che è fatta di insoddisfazioni, di esigenze non realizzate, che potrebbe portare invece a una ricerca, un lavoro, o cercare rapporti interomani, cercare di darsi un perché, una spiegazione, corrono immediatamente all'estasi, forse il termine è indicato per indicare questa droga, che pare che sia pericolosissima, perché voglio subito appunto la felicità, la felicità che si traduce in uno stato di intossicazione maniacale, e quindi, mentre magari la felicità, una ricerca fatta con gli altri esseri umani, con persone più o meno intime o gruppi di amici, o qualsiasi cosa, non darà questa euforia io a questo punto, però è un modo di vivere che io dico, per me è uno star bene molto maggiore che non le altre situazioni di cui accennavamo. Ecco, l'ultima domanda. Di questo termine, depressione, si abusa parecchio, tanto che da certe indagini, da certi... sì, indagini fatte sui adolescenti, dai 15 ai 25 anni, l'ultima di oggi, uscirebbe fuori una immagine di giovane, di adolescente, depresso, insoddisfatto. Ecco, lei la condivide questa... Credo proprio di no. Credo proprio di no, perché appunto ho seguito qualche trasmissione e c'è tutto questo discorso sul disagio della gioventù moderna. Il disagio della gioventù moderna c'era nei tempi dell'impero romano. Il disagio della gioventù moderna c'era tra i clerici vagantes, nel Medioevo e nel Rinascimento. Il disagio della gioventù moderna è pieno tutto il romanticismo con Giovane Vertere, Jacopo Ortis, Foscolo e tutto questo lo Sturm und Drang romanticismo della fine del Settecento. C'è stato sempre il discorso appunto del disagio, che è assolutamente fisiologico. Perché la persona che da 12, 13, 14 anni deve passare all'età adulta da una situazione attraversa tutta una situazione di problemi, di conflitti, attraversa anche una modificazione, una soluzione fisica notevole. E io mi chiederei se questo continua, beato, a sorridere dalla mattina alla sera. Appunto, è un idiota. Non capisco, quindi adesso che venga fuori il discorso che adesso i giovani hanno queste difficoltà per cui sarebbero depressi, sono stati sempre depressi. C'è sempre una situazione, è guai se non lo fossero stati. Cioè che uno non affronti la propria situazione di ricerca, di cambiamento interno, di sviluppo, se vogliamo, di una realtà psichica, che ricerchi una realizzazione di un'identità che comprenda l'uno e l'altro e che questa sia una cosa obiettivamente difficile. È obiettivamente difficile perché, come ho detto un attimo fa, la cultura non gli aiuta per niente. Perché la cultura dice prenditi l'estasi, prenditi la pilloletta, prenditi l'antidepressivo, il Librium, il Valium, o che so io, non gli dice fare ricerca. Perché questo è giusto che tu ti facciano le domande, che tu ti poni dei problemi, che tu non vivi in maniera assolutamente indifferente le cose che succedono. Il mondo non è paradiso terrestre. E quindi che ci sia una situazione di cosiddetta depressione, non ci vedo niente di strano. Però, claro, insisto, non deve diventare patologica con quei sintomi precisi, per cui ha un certamente un rallentamento, arriva a livelli tali, per cui non si muove più, non fa più nulla, eccetera, eccetera, insomma, quelle che sono sintomatologie precise di interesse e di competenza appartamente psichiatrica.